la fase della gara che stiamo per andare ad affrontare come diceva Roberto vedrà impegnato al volteggio Maria Teresa Gargano e al corpo libero la Monica Bergamelli che sarà la seconda subito dopo la Slovacca Susanna Sekerova ma intanto andiamo a seguire questa Alina Kovic l'Ucraina che come dicevamo si trova in prima posizione a pari merito con la struttura vediamo come potrà procedere l'esercizio della trave di questa binnasta Ucraina Ucraina che ieri ricordiamo nella gara di squadra abbattuto da Russia si è conquistata meritatamente la medaglia d'argento alle spalle della Romania una grandissima Romania peccato l'unico ramarico è di non averle potute vedere tutte e tre le nazionali che si sono classificate ai primi tre posti nell'ultima suddivisione questo perché la Romania ha lavorato nella suddivisione della mattina nella prima suddivisione insieme alla Spagna in virtù del fatto che a due anni fa a Patrasso erano assenti e quindi sono entrati come sorteggiati e non come di diritto hanno appunto lavorato nell'ultima suddivisione le prime otto squadre e vorrei ricordare anche il sesto posto della nostra squadra il sesto posto ottenuto peraltro anche qui abbiamo da lamentare